E ciao a tutti ragazzi sono Victor Tiger e io sono MKV e bentornati sul quinto episodio di A Way Out ragazzi e come sempre riprendiamo da dove ci siamo fermati nell'ultimo episodio Oh sei nel caso non posso leggere tutta la storia sarei divisa metà in metà Eh effettivamente è un po' strano E' una barraca non è una casa Tra l'altro sanno lamiere dappertutto pure nella prigione E' tutto fatto di lamiere Ma che è una fattoria che è? Guarda caso sta guardando proprio il telegiornale Sì guarda il lago Poi mangiano col fucile a tavola Mangiano che cazzo Stanno sentendo la radio che parlano di noi due che siamo scappati Guarda caso proprio appena siamo arrivati con noi Ma sei una cosa? E' un paese un cattore Non possiamo fare questo Non lo so come questo Sto dicendo che abbiamo tagliato con qualcosa E' un po' di rinforzo Perchè bisogna cambiare i vestiti E' un po' di rinforzo E' meglio di rinforzare i vestiti E' meglio di rinforzare i vestiti E' meglio di rinforzare i vestiti Non lo so No libera i cavalli Certo Perchè bisogna provarlo Ok Come va Tra l'altro non si possono abbassare di più che così esce la testa Oh C***o E' fermata Ok Come sai che hanno i cattoli in là? E' un cattore E' un cattore E' un cattore E' un po' di olio curo Dio S direi Potresti anche essere fuori Ho sentito? Si E' lo faccio E' come le liberi Stanno nella stalla Dobbiamo uscire e andiamo dalla scala Scala Forse la scala L'ha la 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 sopra aperto Ehi, guarda lì Un'opera Mentre potremmo trovare qualche modo per arrivarti sali tu? sali, sali, puoi sali tu vai tu, vai ti aspetto qua ma mi sa che devi venire pure tu no, ok, allora non se no, che fai pure? ok, ora abbiamo bisogno di lasciare le porsi hey Leo, questo potrebbe fare abbastanza suono per scusare le porsi che fai vicino a qualcosa? dov'è? è lì vieni, che tu devi fare una cosa e io un'altra beh, ma dobbiamo liberare i cavalli no, e beh, questo serve per fare rumore per far spaventare i cavalli vieni qua, ma i cavalli sono chiusi? o no? ma non lo so eh, sono chiusi nella stalla e fanno spaccano la stalla fai vedere? ci sono i cavalli non sono chiusi non sono chiusi e allora apri tutte le cose e poi dobbiamo... allora ok, aperto tu qua altri cavalli stanno vedo il giro direi... ok, qua ma la porta è chiusa che fai? che fai? boh ah, è accesa la luce non ci vedevi ah, è lock e l'ho provata per pure che fai? che fai? sbattendo i cavalli si apre? si ok, ma dobbiamo solo far scappare i cavalli posso salirci? no, però non ci vuoi più boh che botte eh, ma non si muovono dobbiamo andare sopra e dobbiamo far cadere qualcosa per farli scappare ok ok Vincent ah 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 i cavalli stanno scappando, amore oh amore vabbè 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 eh certo ma come corrono? sono cagati nelle mutande vabbè 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 effettivamente vabbè va pure dice che facciamo che facciamo entriamo nella casa un'altra parte vabbè volevi.. vabbè perché dovevi rubare i maiali che volevi fa? no eh vabbè entriamo dove siamo dalla finestra dalla porta ma io voglio entrare dalla finestra Fammi andare sopra, fammi andare a rubare i vestiti del vecchio, suona il piano, suona il banjo, vieni, 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 aspetta fammi fare un po' di vici turco, si ma mi sa che ti bevo faci prima che ti bevo faci la sfida, ah, la sfida è a chi fa pe punti Ah è ok, la sera non l'ho, non ero concentrato Potrà dormire Ho sempre trovato questo tipo di sovranci F*** Che sta facendo? Perché scende giù? Ah perché si poteva salire anche da qua Capito? Si poteva salire anche dalla finestra Di sopra Ah beh C'erano le borse sotto gli occhi Ci stavano sopra, se ti volevi cambiare Che fai? Prendi il fucile e prendi Può servire Ah è finta, è solo da decorazione Quindi direi ci dovremmo cambiare prima che tornino i vecchi Che ci sta qua un altro bagno Vedi che l'armadio sta sopra No ma a te ti fa tirare, vieni a vedere Dov'hai? Oh 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 Dietro E insieme? No, a me non me lo fa fa a me Poi proviamo a premere insieme E premere cosa? A me non mi fa premere niente Vai dall'altra parte Vedi ti fa premere Ah ok E che Sopra Non c'è nulla Ci sta l'armadio E qua, che è? Nello stanzino qua Dove sta qua? Ma che è? Ho sempre voluto farlo Ho sempre voluto farlo Ma che è una stanza di giochi Vedi ci sono Ma forse era la stanza segreta Ma ti sei cambiato tu? Te lo favo guadagnato E' pericoloso andare da solo Che stai facendo? Mi sto cambiando Dai guarda come so figo Ma io volevo suonare per me Non ciò andiamo Ma andiamo aspetta Andiamo giù Ma c'ho pure il fucilozzo Fucilozzo, madonna Adesso ho un vampiro Guarda il vampiro Guarda, guarda Guarda E guardati però Premi quadrato E non c'è Dove sei? Giù? Si sto giù Metto un basso no Viste qui tu non sai se no Vai 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 a difficile Estrema Vediamo estrema com'è Perchè Sì Devo un attimo coordinare Dai oh C'ho fatto 56 distrutto vabbè ma io mi sono fermato però hai sbagliato basta già andiamo prima cosa c'è come chissà se posso mangiarla eh grazie al cazzo stai mangiando l'erba accendiamo un fuoco e che devi fare che accendi il fuoco boh vediamo almeno rilasciamo la casa riscaldata come senti la radio che dicono niente sta tutta la radio che dobbiamo fare dobbiamo andare al furgone ma quale furgone non c'è sto furgone ci deve essere un furgone ma di qua forse di là si torna indietro qua qua dove sto io mi sa c'è una porta ad aprire ma dove stai tu premi l2 per trovarmi alla aspetta c'era da premio voglio vedere un attimo eppure qua dove sto io c'è da lancia ferie di cavallo lancia fuoco aspetta io voglio fare il conteggio più alto quindi ma ti devo battere devo venire lì e ti devo battere sei riuscito a fare centri forse eh 9 mi hai fatto 9 fammi provare a ribattere il record che merda che cazzo fa vabbè vai ragazzi adesso mi fa vedere quanto eh ma al giatrice ma come imbroglia si è abu eh ovviamente ragazzi è sempre il più forte quindi c'è niente da fare il super campione del mondo si sta qua dentro vediamo cazzo il gatto il gatto gatto il gas canister il trattore usiamo il trattore eh usalo tu vediamo il trattore ho scappato il trattore eh oh il trattore non si può usare perchè tieni quella quasi male eh che ne so se dobbiamo via il furgone dobbiamo mettere la benzina no no la benzina vediamo aspetta appoggiamo qua oh ma ci aspettano e ci sparano ma che viene è una ruota bucata no si sa che non ce l'ha proprio ce l'ha ah ah quindi sicuramente quella tannica che hai preso ci serve perchè sarà sicuramente senza benzina eh io trovo pure la batteria allora chiamo la crucia che serve la ruota questo serve per sollevare il furgone per mettere la ruota manca una ruota dove la pio la ruota io poi sopra vedi vabbè mo annullo come che cazzo fai lì vicino al furgone dopo quando cazzo lo facciamo che hai trovato che devo fare qua peso tira eh come tiro ma aspetta vengo lì mi devi passare dall'altra parte forse devo fare io così ah ok veloce eh eh la velocità mo mi lascio e cado giù e mi rompo le gambe non puoi fare nulla posso annullare io e ti lascio a mezz'aria ahahah oppa nulla eccole qua butta giù butta giù rimbalza e va su sul furgone si spaga il furgone e guarda eh lo devi aggiustare dopo oh no oh guarda là per poco vieni qua ah ti butti direttamente ti stavo facendo proprio tornare la corda qua ma no hai già tornato indietro no te la facevo tornare lì vai io sollevo tu metti la ruota ok aspetta stai cagando addosso eh sai come è pesante il furgone che cazzo che cazzo fissa la ruota io vuoi mettere la benzina mano eh il motore dei cazzo ok ok è finito ora bisogna qualcosa per rinforzare per prendere il supporto allora devi tagli il supporto come hai fatto io sollevo e tagli il supporto e come non lo diamo questo supporto? sta qua questo vaso di legno ok ah ok ok guido io giustamente e che guidi senza batteri ah vero mi sembra un po' questa ruta mi sembra un po' andata prova a levar il supporto dobbiamo spingerlo o no? no è senza batteria e lo spingi e vai io sollevo tu tu togli il supporto ma comunque senza batteria non parto no devi levar tu il supporto di lato no se io devo sollevare tu togli il supporto sennò ok sp... ok 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 spingiamo oh non troppo oh ma spingono da soli no piano eh oh oh nooo ma sembra colpa tua lo vedi che è colpa tua intanto dovevo mettere la batteria adesso si è spaccato ma lo facciamo nel prossimo episodio no no facciamolo un attimo poi salutiamo ti apri di gelica ma ci vuole la batteria comunque prova a mettere il moto allora vediamo ok 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 ora ok 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 se se il video vi è piaciuto ad iscrivervi al canale sempre se vi va e se non l'avete già fatto come sempre ci si becca online